La parità sociale Vado a dare un'occhiata a Toby Vai Se trovano Atlantide su quella mappa, avvertimi, va bene? Non posso promettertelo Capisco Così è come se i paesi del terzo mondo venissero sottovalutati Mercatore esagera l'importanza della civiltà occidentale La parte alta delle mappe è per l'emisfero boreale In basso c'è quello australe E le persone assimilano questo infausto modo di vedere Ma... aspetti... Dove potrebbe stare l'emisfero boreale se non sopra? Nella parte bassa Come? Così Sì ma non potete farlo Perché no? Così mi fate impazzire Così...